la storia è stata fatta ieri sera esco questa ragazza andiamo al ristorante spendo 260 franchi perché se vuoi fare una bella figura e portarla in un ristorante carino i prezzi sono quelli prendo la bottiglia stiamo di fino agli 11 poi ho detto ti porti in un locale carino ho portato in questo locale siamo rimasti fino alle tre dopo mi ero rotto il cazzo raga già c'è stato taravato io ho detto dai andiamo andiamo prendo il taxi nel taxi mi fa no io vado a casa ah vabbè vai a casa è andata a casa ha detto rimanici è meglio che non ci vediamo più alla fine ragazzi io a casa non ci vado con le palle gonfie sono andato a mignotta perché la tigre a secco non ci rimane mai e nessuno può dire di no alla tigre capisco che sei seria che non vuoi fare all'inizio ma me mi frega un cazzo non ci vado a la prima sera